Musica Devo recuperare il pallone, faccia velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica Il campo qui in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli si affrontano per l'ottava giornata Lady's Cup, torneo targato S Cup, Lady Macbeth contro le giocatrici Alvi Celeste Squadre che salutano i propri tifosi, passano a darsi il 5 Ha vinto, sta vincendo Ha vinto Non ne ho E dove stanno utilizzando il SD? Ora il mio capitano è a sorteggiare il tocco per la palla e per il campo Sceglie tu Sceglie tu Sceglie tu Sceglie tu Sceglie tu Sceglie tu Sceglie 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 Un saluto Lady Macbeth contro Alvi Celeste Adesso sto di 0 a 0, attenzione però vediamo le giocatrici Lady Macbeth in Manca attacca verde Pericolose lì davanti il suo stato fermo sullo 0 a 0 Ora possiamo seguire tutta la prima passione Sceglie 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.